Bene, buonasera a tutti. Prima di tutto un grazie per l'invito del Centro Fermi, invito che è graditissimo e mi dà l'opportunità di raccontare questa storia. Ed è la storia di quegli anni che vanno approssimativamente dal 22 al 26 della vita di Enrico Fermi, in cui la meccanica artistica non esisteva ancora o stava lentamente nascendo, in cui questo giovane si avvicina alla meccanica artistica e produce i primi ma significativi risultati, di cui poi verso la seconda parte della presentazione vorrei anche un pochino entrare in qualche dettaglio tecnico. Io mi scuso con chi magari alcuni aspetti tecnici li troverà un po' astrusi, però penso anche che qualcun altro possa apprezzarli e cercherò di essere il più possibile chiaro nei limiti del possibile. Voi sapete che Richard Feynman, cioè uno dei più grandi fisici del secolo scorso, disse una volta che chiunque cerchi di convincervi che ha capito la meccanica quantistica vi sta mentendo. E parlava anche di se stesso, quindi non sempre queste cose sono esattamente intelligibili, però ci proverò almeno per la piccola parte che mi compete. Enrico Fermi che nasce nel 1901, a 18 anni va all'università e va all'università a Pisa perché, che è poi dove io ho insegnato in tutti questi anni, perché ha vinto un posto alla scuola normale superiore e lì siccome ovviamente non è che ci fosse in Italia in quel momento una gran cultura della fisica contemporanea, i fisici dell'inizio del Novecento in Italia erano legati molto a tematiche ottocentesche, erano bravi ma erano un po' arretratti culturalmente e quindi lui praticamente era autodidatta. Come autodidatta, prima ancora di laurearsi, lui si laurea nel giugno del 22 e quindi esattamente 100 anni fa, ma ancora prima di laurearsi aveva una serie di problemi che non erano i problemi diciamo che erano emersi nel corso di laurea, perché nel corso di laurea si parlava di tutt'altro come vedremo, ma erano i problemi che lui aveva nella testa perché aveva letto tante cose, si era interessato a tanti argomenti, in particolare proprio negli anni prima della laurea già scrive un paio di lavori perché in quel momento era particolarmente interessato alla relatività generale che tra l'altro aveva pochi anni, voi capite anche la capacità di questo ragazzo di vent'anni e senza maestri di acquisire una teoria già complicata di per sé e comunque appena nata si può dire perché la teoria della relatività generale è del 1916 e lui già negli anni 21-22 ci lavorava intensamente. Quindi di questa parte non vorrei dire nulla perché con la meccanica quantistica non ha praticamente niente a che vedere, però volevo solo farvenne un accenno perché è sintomatico diciamo dell'atteggiamento intellettuale di Fermi che scrive dei lavori anche importanti, le coordinate di Fermi e relatività generale si usano ancora ora e le ha fatte quando aveva 20 anni. Ma cosa succede? Che appena laureato decide di tornare a Roma, veniva da Roma peraltro Fermi e decide di tornare a Roma e si presenta in questo palazzo al professor Corbino che era il titolare della cattedra di fisica sperimentale che poi era l'unica cattedra esistente a quel tempo nell'università per la fisica e si fa conoscere in qualche modo, chiaramente aveva già anche fatto qualche lavoretto quindi insomma poteva mostrare anche della carta scritta, non soltanto chiacchiere e evidentemente si fa anche apprezzare da Corbino il quale immediatamente o quasi immediatamente siamo a cavallo tra il 22, siamo nella seconda metà del 1922 gli procura una borsa per l'estero, come ci sono ancora adesso non proprio un Erasmus, qualcosa di più di un Erasmus, forse quello chiameremo un postdoc oggi a Göttingen, perché a Göttingen? Perché a Göttingen ci sono i migliori fisici teorici del suo tempo è chiaro che Fermi è un teorico in quel momento, poi diventerà uno sperimentale e farà le cose straordinarie che più o meno tutti sapete e di queste non parlerò perché queste sono proprie del momento in cui lui poi torna a Roma come professore ma da giovane è un teorico, come teorico Göttingen è il posto giusto a Göttingen c'è Born, Max Born e poi ci sono i suoi allievi, c'è Wolfgang Pauli, un altro teorico della massima levatura e tra gli allievi di Born c'è un altro ragazzetto, un certo Werner Heisenberg il quale anche lui avrà presto qualcosa da dire ma non nel 1923, cioè non nell'anno in cui Fermi arriva a Göttingen Fermi si inserisce male in questo ambiente non penso che fosse un problema della lingua perché il tedesco lo sapeva e lo sapeva anche abbastanza bene è che forse non risuonava, come vedremo anche in seguito granché col modo di fare fisica di queste persone che pure facevano fisica teorica al massimo livello ma erano molto formali, Fermi non è mai stato, è sempre stato bravissimo dal punto di vista anche matematico non è che avesse delle difficoltà col formalismo tante volte si è inventato anche il formalismo ma non amava il formalismo, lui amava la fisica e quindi i discorsi di questi signori gli sembravano un po' troppo astratti non riusciva a parlarci granché quindi rimane praticamente nel suo studiolo e scrive diversi lavori in quegli anni in quell'anno perché poi c'è stato meno di un anno a Göttingen ma di cosa si occupa in quel momento? beh in quel momento lascia da perdere definitivamente si può dire la relatività generale e comincia a interessarsi alla teoria dei quanti io userò due parole distinte, che poi sono nell'uso comune teoria dei quanti e meccanica quantistica teoria dei quanti è quella che a partire dalla teoria del corpo nero di Planck del 1900 e poi con l'atomo di Bohr cerca di conciliare in qualche modo, ma anche spesso raffazzonato il concetto di quanto con la fisica classica che dentro la quale i quanti ci stanno nella fisica classica l'idea che l'energia si trasferisca per quantità diciamo determinate, fissate cioè quanti di energia è una cosa che non rientra nella fisica newtoniana è qualcosa che bisogna in qualche modo farci rientrare e qual'era la strada che si stava percorrendo in quegli anni per cercare di far rientrare la teoria dei quanti nel quadro della fisica tradizionale della fisica classica beh la strada era quella di utilizzare un teorema importante che si chiama il teorema degli invarianti adiabatici fatto da un fisico matematico il quale teorema diceva che certe quantità di cui adesso non sto a darvi dettagli perché non sono neanche particolarmente interessanti se un sistema si trova ad avere in un certo istante un determinato valore per quella quantità le trasformazioni di quel sistema se sono fatte abbastanza lentamente non cambieranno quel valore quindi se quel valore è per qualche strano motivo quantizzato cioè assume un valore che è un multiplo di una certa unità che tipicamente è la costante di Planck moltiplicata per una frequenza quel valore dell'energia intendo quel valore resta immutato oppure se è un momento angolare proprio la costante di Planck l'unità di misura quel valore resta immutato nel tempo e quindi si capisce perché gli atomi perché uno dei problemi fondamentali è perché gli atomi che sono fatti come aveva capito già Rutherford negli anni 11-12 sono fatti da elettroni che girano intorno ai nuclei non irraggiano un elettrone che gira intorno a un nucleo essendo accelerato dovrebbe emanare continuamente radiazione perché resta sempre o per lungo tempo in un determinato livello di energia e non perde continuamente energia beh questa teoria degli invarianti adiabatici era un tentativo di conciliare le due cose dice beh non perde energia perché sono trasformazioni lente l'invariante adiabatico tende a conservare il valore se il valore è discreto prima di passare ad un altro valore discreto ci vuole molto tempo e quindi nel frattempo non succede nulla e l'atomo resta stabile era un po' agitare le mani and waving dicono gli americani era un po' agitare le mani per cercare di farsi una ragione di quello che succedeva però insomma non riuscivano a fare di meglio Fermi lavora moltissimo su questo tema delle adiabatiche e su un problema strettamente connesso al problema delle adiabatiche che è il problema ergodico ha anche dei risultati interessanti vedete questi lavori vedete il principio della adiabatica i sistemi che non la metto dimenticatevi diciamo i problemi tecnici legati a queste parole l'importante è che sono tutti tentativi vedete teoremi di meccanica analitica importanti per la teoria dei quanti sono legati al problema ergotico e sono tutti tentativi di sviluppare una matematica che concili in qualche modo la meccanica classica con la teoria dei quanti senza buttare all'aria a mare la meccanica classica però senza introdurre nuove idee fondamentali perché non c'erano in quel momento le nuove idee fondamentali e quindi nel 23 Fermi fa questi lavori e poi torna a casa verso la fine del 23 torna a Roma ritorna da Corbino ovviamente e Corbino gli propone una nuova borsa di studio per andare questa volta a Leiden in Olanda dove c'è Ehrenfest che era in quel momento uno che aveva l'expertise più forte in questi temi in varianti adiabatici eccetera e che anche lui si era occupato molto di teorie dei quanti e qui Fermi si trova abbastanza bene in questo anno diciamo prima metà del 1924 che trascorre a Leiden ma è anche il momento in cui Fermi comincia a sviluppare a sviluppare un particolare tipo di interesse nell'ambito della teoria dei quanti che poi come capiremo in seguito diventa e diventerà l'interesse dominante praticamente oggi come oggi nella fisica delle alte energie tutti i processi che si studiano con la meccanica quantistica sono processi d'urto e in parte anche nella fisica delle basse energie ma soprattutto nella fisica delle alte energie i processi d'urto sono al centro delle problematiche in cui poi si utilizza effettivamente la meccanica quantistica vi ricordo che a quell'epoca la fisica era fisica atomica non era ancora fisica nucleare fisica nucleare le inventano si può dire Fermi e gli altri negli anni 30 e quindi nella fisica atomica i processi d'urto che pure c'erano avevano una rilevanza che però perché ad esempio la comprensione della struttura dell'atomo fatto di elettroni che girano intorno ai nuclei e anche quella legata a degli esperimenti fatti da Geiger e un altro non mi ricordo chi che avevano appunto mostrato tramite lo studio dell'urto di particelle alfa con gli atomi la struttura che poi abbiamo capito essere quella dell'atomo di Rutherford ma comunque non era al centro dell'interesse di tutti i fisici il problema dei processi d'urto ma Fermi con l'intuizione che poi l'ha caratterizzato tutta la vita capisce che lì c'è qualcosa di importante da capire nei processi d'urto e comincia a studiarli nell'ambito della teoria dei quanti non della meccanica quantistica che ancora non esiste siamo nel 24 ma nell'ambito della teoria dei quanti e cosa fa? scrive un articoletto tra l'altro una cosa curiosa è che la prima versione di questo articoletto non è nelle bibliografie dei lavori di Enrico Fermi lo trovate per caso sfogliando gli annali dell'Accademia dei Lincei perché poi scrive altri due articoli sullo stesso tema uno in italiano e uno in tedesco ma la prima comunicazione viene fatta non da lui personalmente ma da Castelnuovo che notate bene era un matematico non un fisico e fa questa comunicazione nell'agosto del 24 all'Accademia dei Lincei su questa teoria dell'urto tra atomi corpuscoli elettrici perché questo articoletto e poi articoli più sviluppati che sono scritti lì nella slide e che Fermi scrive nei mesi immediatamente successivi sono interessanti beh intanto un brevissimo commento su questa dinamica perché merita di essere discussa un attimo alla luce di come invece le cose succedono ora vedete all'epoca c'era forse più era sentito probabilmente quanto ora ma in modo diverso il problema della priorità dei risultati perché noi adesso se troviamo qualcosa scriviamo un preprint lo mettiamo in rete il giorno dopo e dopo un giorno che abbiamo avuto l'idea e l'abbiamo scritta su un pezzo di carta tutto il mondo la conosce e questa è la dinamica poi dal preprint magari viene mandata a una rivista di lettere tipo Physical Review Letters e poi dopo in seguito magari il lavoro più articolato viene pubblicato sui rivistoni tipo Physical Review in seguito con calma e per piacere ma intanto la priorità è assicurata dal preprint di fatto all'epoca non c'era il preprint non c'era il computer non c'era il preprint non c'era nessun tipo di diffusione di questo materiale se non magari lettere private da fisico a fisico e le comunicazioni all'Accademia dei Lincei avevano proprio questo significato di in qualche modo dire io ho trovato questa cosa non posso raccontarvi dettagli perché è una comunicazione tra l'altro appunto fatta da uno che non è nemmeno quello che ha fatto la scoperta sono un quarto d'ora di chiacchiere però intanto si sa che il dottor Fermi che non è ovviamente ancora professore ha da dire questa cosa questa cosa cos'è? è una cosa particolarmente interessante perché è un'idea che ha Fermi il quale dice noi sappiamo che se noi mandiamo luce su dei sistemi ad esempio dei sistemi atomici questa luce se abbastanza intensa e soprattutto se ha frequenze abbastanza elevate riesce a far uscire elettroni da questi atomi per ionizzazione come si dice e tutto questo può essere studiato parametrizzato calcolato con certe formule di diffusione da luce a atomi che la teoria dell'elettromagnetismo classico la teoria di Maxwell e poi dei suoi successori aveva già ampiamente sviluppato e si sa più o meno che cosa deve succedere questo è un risultato completamente classico Fermi dice ma se noi invece che luce che noi sappiamo adesso però perché ce l'ha detto Einstein nel 1905 che è fatta di fotoni e già c'erano parecchie evidenze del fatto che la luce fosse fatta di fotoni è come se noi mandassimo dei proiettili dei piccoli proiettili questi fotoni sull'atomo che poi questi fotoni rimbalzano si chiama effetto Compton e quindi un processo diciamo che è alla fine un processo d'urto perché noi lo vediamo come luce che arriva sull'atomo ma dal punto di vista microscopico sono fotoni che arrivano sull'atomo quindi un urto di questa particella questo fotone che picchia sull'elettrone gli dà una botta e l'elettrone esce per la botta che ha ricevuto ma allora quando noi mandiamo elettroni sugli atomi non dovrebbe succedere niente di molto diverso perché comunque è un'interazione di tipo elettromagnetico e quindi di fatto c'è un passaggio di qualcosa che non è radiazione come quando ci mandiamo alla luce ma qualcosa che noi non vediamo e che però si comporta come la luce di luce molto intensa e quindi si ha un processo di diffusione che può essere calcolato e rappresentato con le stesse formule con cui studiamo la diffusione della luce sugli atomi questa cosa che Fermi ha diciamo buttato lì facendo qualche esempio matematico ma non potendo non sviluppando una teoria completa e poi capiremo perché non ne ha sviluppato una teoria completa oggi si chiama il metodo dei fotoni virtuali è stato sviluppato nei dettagli da Weiss e da Ray Williams negli anni successivi ed è una cosa importantissima nella teoria dei processi d'urto tra particelle cariche e sistemi atomici il metodo dei fotoni virtuali ma cosa succede succede che questa cosa viene qui c'è solo una descrizione che vi risparmio di più o meno di quello che vi ho detto a parole cioè il fatto che appunto fatto che un processo fatto mediante luce o fatto mediante elettroni potrebbe avere delle analogie molto forti quindi è possibile che tramite queste analogie si possano dedurre come dice solo nella parte finale quantitativamente i fenomeni dell'escitazione per urto dallo studio dei fenomeni di assorbimento ottico ripeto questa cosa è vera è stata sviluppata ed è una teoria diciamo un metodo estremamente importante della fisica dell'interazione particelle cariche con la materia solo che quando Niels Bohr che aveva fatto l'atomo di Bohr e quindi di fronte al quale tutti si prostravano perché aveva era stato il primo che era riuscito a dimostrare che la teoria dei quanti poteva permettere di spiegare i livelli atomici che era una cosa che fino al momento nessuno era riuscito a spiegare cioè che poi sono i livelli atomici che danno luogo alle righe che si vedono nella spettroscopia degli atomi perché le righe sono righe di transizione tra i livelli atomici cioè la luce emessa quando un atomo un elettrone in un atomo passa da un livello a un altro perdendo energia quindi emette luce oppure ne assorbe nel processo inverso queste righe che si vedono nello spettro solare ad esempio erano state parametrizzate molto bene le righe di Balmer le righe di Lyman c'è tutta una letteratura ma la spettroscopia era sviluppatissima in quegli anni ma nessuno ci aveva capito niente fino al giorno in cui Bohr ha fatto vedere che usando un principio di quantizzazione dei livelli energetici si potevano dedurre le formule che descrivevano queste righe quindi Bohr era un guru era uno fronte al quale diciamo nessuno si sarebbe permesso di mettere in discussione più che tanto quello che diceva e Bohr vedete cosa scrive dice in queste circostanze difficilmente può essere considerato un supporto alle ipotesi utilizzate da Fermi il fatto che una stima dell'effetto frenante basata sul requisito del bilancio energetico dei risultati approssimativamente in accordo con le evidenze cioè ha spregiato questo risultato a tutti gli effetti cosa che ha lasciato segni profondi in Enrico Fermi tant'è vero che Emilio Segre che lo conosceva bene è arrivato addirittura a sostenere che uno dei motivi per cui Fermi si è avvicinato con un certo ritardo parliamo di un anno e non di un secolo alla meccanica quantistica è dovuto al fatto che siccome la meccanica quantistica era stata sviluppata dalle persone del giro di Bohr perché poi Max Born Heisenberg eccetera erano in rapporti molto stretti con Bohr in quei tempi aveva in virtù dell'atteggiamento che quella gente prima Gröttingen come avevo descritto che l'avevano scusate l'espressione filato un po' poco e poi addirittura con questo scritto di Bohr che spregiava la sua teoria dei futuri virtuali questo abbia allontanato almeno per un po' Fermi da questo tipo di fisica non è solo però un fatto psicologico non vorrei che poi riducessimo tutta la vicenda a una questione diciamo di bassa psicologia o del fatto che Fermi si era offeso bisogna dire che e questo lo sappiamo da una lettera che nel settembre del 25 quando già sono usciti i lavori di Heisenberg Born Jordan Fermi scrive al suo caro amico Enrico Persico beh in questa lettera Fermi esprime grandissima diffidenza nei confronti quella che di fatto era la nuova meccanica quantistica che però da Heisenberg Born e Jordan veniva presentata come meccanica delle matrici ora la meccanica delle matrici ha due caratteristiche una affascinante nel senso che è una teoria che in un certo senso prescinde dalla necessità di dire qualcosa sugli stati fisici di cui non sappiamo niente sono appunto la cosa che dicevo che neanche Feynberg saprebbe dire che cos'è uno stato fisico e quindi la meccanica in un certo senso prescinde dall'esistenza degli stati fisici e quindi è in grado invece di sviluppare un formalismo che permette di predire dei risultati di fisica prescindendo da una teoria di che cosa c'è sotto da un'ontologia diciamo così per usare un linguaggio filosofico che poi è stato il problema della meccanica quantistica negli ultimi cento anni il che cosa c'è sotto quindi il fatto che la meccanica delle matrici ne faccesse in qualche modo o meno non è un risultato da poco e questo è il pregio il difetto è che è di una complicazione mostruosa proprio da un punto di vista tecnico e che con la meccanica delle matrici in realtà gli stessi inventori della meccanica delle matrici a cominciare da Max Born non l'hanno più utilizzata non appena Schrödinger ha pubblicato l'anno dopo l'equazione di Schrödinger di cui avete sicuramente tutti sentito parlare e che è una forma alternativa della meccanica quantistica del tutto equivalente matematicamente alla meccanica delle matrici ma che usa un formalismo del tutto differente molto più maneggevole è molto più comprensibile da un punto di vista matematico anche se è totalmente incomprensibile da un punto di vista ontologico come vi dicevo prima quindi una mano dall'altra prende diciamo da un lato avevamo una teoria che non aveva bisogno di fare dell'ontologia ma non era poi in grado di essere utilizzabile per risolvere i problemi concreti e dall'altro abbiamo una teoria invece che postulando un'ontologia assolutamente incomprensibile però permette di risolvere i problemi concreti e matematicamente si dimostra che queste due teorie sono equivalenti quindi siamo alla seconda metà del 1925 quindi siamo quando è già nata la meccanica delle matrici è già nata la meccanica quantistica ma non esiste ancora l'equazione di Schrödinger e fermi si occupa di tutt'altro non è un inciso che non risulterà dalle slide ma che è importante che vi dica non che stia perdendo il suo tempo perché in questo periodo c'è a cavallo tra la fine del 25 e l'inizio del 26 fermi formula la statistica di fermi che è una delle due statistiche quantistiche fondamentali ed è forse il suo risultato teorico è uno dei suoi risultati teorici più importanti sicuramente noi abbiamo delle particelle che ancora oggi si chiamano fermioni perché obbediscono alla statistica di fermi che nella letteratura è nota anche come statistica di fermi di Iraq perché sei mesi dopo fermi ma senza aver letto l'articolo di fermi anche di Iraq sviluppò lo stesso formalismo però insomma è fuori discussione a chi spetta la priorità scientifica quindi si chiamano fermioni e non di racconi per il motivo che vi ho appena cercato di raccontare quindi diciamo che non è che stesse buttando il proprio tempo ha fatto una delle scoperte fondamentali nel quadro della meccanica quantistica ma la statistica di fermi ha una peculiarità che per come è formulata non richiede in realtà è una statistica quantistica a tutti gli effetti ma non richiede la meccanica quantistica e quindi lui l'ha potuta formulare a cavallo 325 e 26 ignorando la meccanica delle matrici e non avendo ancora contezza dell'equazione di Schrodinger perché ancora non esisteva quindi siamo in un periodo particolarmente effervescente della storia della fisica moderna e in questo periodo appunto Fermi fa questo tipo di cose e gli altri invece si occupano di cercare di costruire una nuova meccanica quantistica che stia in piedi che sia totalmente efficiente sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista dell'utilizzabilità pratica questo avviene in particolare appunto con gli articoli di Schrodinger gli articoli di Schrodinger che sono pubblicati tra la primavera e l'estate del 26 in particolare verso l'estate sono giusto articoli a complemento che servono per dimostrare l'equivalenza della propria teoria quella di Schrodinger con quella di Born Heisenberg e Zorn ma come vi dicevo poco fa in realtà non appena Schrodinger pubblica la sua equazione lo stesso Born che era uno di quelli che avevano inventato la meccanica delle matrici adotta immediatamente l'equazione di Schrodinger perché gli sembra ovviamente e palesemente molto più facile per trattare gli stessi problemi che lui stava affrontando interessante che non appena impadronitosi e che la regente che sapeva studiare evidentemente ci avrà messo un mese non appena impadronitosi del formalismo dell'equazione di Schrodinger Born l'applica a cosa? Proprio ai processi d'urto col processo d'urto che avevano interessato tanto anche Enrico Fermi due anni prima e il modo in cui Born affronta i processi d'urto è un modo che poi rimane fondamentale nella storia della meccanica quantistica perché in questo articolo che qui è citato Zurkvantenmechanik der Stosforgänge che è del giugno del 26 Born introduce quella che poi sarà nota a tutti e si legge nei libri come l'approssimazione di Born che è il metodo base con cui facciamo tutt'oggi i conti in meccanica quantistica quando calcoliamo processi d'urto appunto ed è un risultato che Born ottiene nell'ambito della meccanica ondulatoria cioè della meccanica di Schrodinger anche se lui aveva inventato la meccanica delle matrici non solo fa questo ma nello stesso contesto in quello stesso articolo vi ho detto che erano anni bollenti Born introduce una cosa che lo stesso Schrodinger non aveva concepito quando aveva introdotto l'equazione di Schrodinger cioè l'idea di un significato della funzione d'onda di cui avrete sicuramente sentito parlare nel contesto dell'equazione di Schrodinger la funzione d'onda in sé non si sa cosa significhi ma il suo modulo quadro cioè il quadrato della funzione d'onda un modulo quadro se è un numero complesso è una misura della probabilità che una particella ha di trovarsi in un certo stato in un certo stato di posizione o in un certo stato di impulso o in uno stato stato di momento angolare non importa dipende da quali coordinate scegliete per la descrizione della funzione d'onda quindi questa questa idea che il modulo quadro della funzione d'onda ha un'interpretazione probabilistica che poi è la chiave per tutta la reinterpretazione della meccanica quantistica che viene fatta da quel momento in poi è in questo articolo di Born del 26 notate le date perché siamo al giugno 26 cosa sta facendo dov'è scusate perché nel frattempo c'è stato un piccolo salto io vi avevo lasciato vi avevo lasciato fermi ancora a Leiden nel 24 anche da Leiden torna alla fine del 24 e nell'autunno del 24 viene assunto come precario a Firenze da Garbasson per insegnare fisica matematica e gli viene dato un corso sostanzialmente in affidamento però non è un posto di professore cioè è professore nel senso che che tiene un corso ma non ha un posto di professore ha un incarico come si diceva un incarico per un corso tuttora forse si parla di incarico quando uno non è titolare per fare questi corsi di fisica matematica a Firenze quindi lui nel 24 dall'autunno del 24 è a Firenze a fare questi corsi lo fa per l'anno accademico 24 25 e lo fa anche per l'anno accademico 25 26 abbiamo ancora le sue lezioni anzi sono state ripubblicate da poco di fisica matematica ripeto le simili in cui non parla della meccanica quantistica perché non è ancora stata inventata o meglio una parte è stata inventata ma lui ancora non se ne è occupato però parla della teoria un pochino della teoria dei quanti e poi di tanti altri elementi classici di fisica teorica a giugno finisce il corso siamo a giugno 26 cioè il momento in cui Born pubblica quell'articolo fondamentale sui processi d'urto in meccanica quantistica cosa fa Fermi torna a Roma come sempre tutte le volte da tutti i suoi viaggi alla fine lui tornava sempre a Roma era molto legato a Roma poi infatti ci ha passato i migliori anni della sua vita si può dire bene torna a Roma e ci ritrova i suoi amici classici c'era Persico che era da poco si era trasferito a Roma e c'era Pontremoli Pontremoli è un personaggio molto curioso di cui vi parlo per un istante giusto perché è una di quelle memorie che vanno onorate uno che fu assieme a Persico e a Fermi alla fine del 1926 cioè di questo anno magico vince la prima cattedra di fisica teorica dell'università italiana una cattedra bandita all'università di Roma con tre posti uno a Roma uno a Torino e l'altro a Firenze vince questa cattedra scusate però questi ragazzi al momento non hanno un posto sono lì appunto a fare un po' di ricerca nell'istituto di via Panisperna ma non hanno posizioni permanenti si ritrovano a Roma tutti e tre Pontremoli purtroppo dopo aver vinto la cattedra decide di partire per una spedizione polare perché era una persona molto curiosa e voleva fare degli esperimenti di fisica al Polo Nord parte con il dirigibile quello di Nobile e poi cade sulla banchise e non lo ritrovano più è morto là insomma nel mare di Barents e quindi l'abbiamo perso nel 1928 mentre invece Persico che poi è diventato professore a Torino poi è tornato a Roma comunque in quell'anno lì anzi in quell'estate Fermi e Persico si mettono a discutere di meccanica quantistica alla luce di quello che Fermi aveva già studiato nel corso della primavera cioè gli articoli di Schrodinger fanno un lavoro di cui parlano dopo ma questo lo fanno un po' più in là lo pubblicano verso novembre ma soprattutto nel frattempo poi Fermi che lavorava si vede un po' con la mano destra un po' con la mano sinistra per conto suo il lavoro con Persico aveva una finalità ne parlerò poi brevemente se c'è tempo alla fine aveva la finalità di tornare a quella vecchia questione degli invarianti adiabatici e vedere se c'era modo di conciliare la nuova meccanica quantistica che a questo punto era chiaro essere la teoria più promettente con i vecchi approcci per vedere di reinterpretare i risultati della nuova meccanica quantistica alla luce di quello che comunque già si sapeva perché fisica scusate la locuzione ma io sono emiliano è come il maiale non si butta via niente cioè è una quando c'è una teoria che descrive molte cose uno non è che può dire è sbagliata perché quelle cose che descrive le descrive bisogna trovare il modo di conciliarla con le teorie più corrette che sopravvengono in seguito poi da un punto di vista mi viene sempre questa parola ontologico quella teoria è sì sbagliata perché è chiaro che non è vero che il sole gira intorno alla terra ma non è che quando Copernico ha formulato la teoria copernicana non è che ha preso Tolomeo e l'ha buttato nel cestino ha preso tutto l'armamentario di Tolomeo che prevedeva molto bene il comportamento dei pianeti e lo ha adattato a questo modello dicendo se usiamo questo modello cioè quello eliocentrico si possono fare i conti di Tolomeo ma vengono meglio e questa se vogliamo è una rivoluzione scientifica sul piano ontologico ma sul piano metodologico c'è un recupero di tutta la strumentazione precedente e questo è avvenuto praticamente sempre nella storia della fisica cioè è difficile che una teoria che ha descritto molti fatti poi sia stata buttata via in maniera totale dicendo vabbè non c'entrava niente non ci interessa più non la studiamo più si è sempre cercato di recuperarla la meccanica newtoniana rispetto a quella relativistica di Einstein non è mica sbagliata è soltanto un'approssimazione per tutti quei processi che vengono a velocità molto minori della velocità della luce la meccanica classica di nuovo sempre quella di Newton e anche quella di Einstein non è mica sbagliata rispetto alla meccanica quantistica descrive tutti quei processi che avvengono con una quantità che si misurano nelle unità del quanto d'azione la quantità H la costante di Planck ma che comprendono un grande numero di queste quantità H e quindi sono per quello che poi Bohr ha chiamato principio di corrispondenza assimilabili a processi classici e quindi descrivibili col formalismo classico quindi in questa logica quella di non buttare via niente Fermi e Persico cercavano di riconciliare tutto quello che già si sapeva della teoria dei quanti nel quadro della nuova meccanica quantistica ma questo è un discorso a parte quello su cui invece mi interessava di più focalizzare è quello che è davvero il primo lavoro di Fermi di meccanica quantistica perché questo primo lavoro è a mio avviso abbastanza affascinante in sé nel senso che mostra questo giovane scienziato che si è impadronito in tempi record di un formalismo completamente nuovo e riesce a spenderlo mettendoci dentro non soltanto il nuovo formalismo di cui si è impadronito ma anche tante cose che sapeva da prima e che non ha buttato via come dicevo prima e un salto è una fantasia un'immaginazione scientifica che è veramente notevole perché anche se il problema come vedremo è un problema non importantissimo ma il modo in cui lui lo affronta veramente è illuminante di come una mente abbastanza geniale diciamolo pure riesce a mettere le mani su un problema e tirarne fuori quello che molti altri non avrebbero potuto tirarci fuori cosa fa Fermi e questo è il suo primo articolo ora notate bene questo articolo non è molto conosciuto in Italia e forse neanche nel resto del mondo perché è un articolo in tedesco un articolo in tedesco in cui che non è stato tradotto di solito tutti gli articoli che avete visto c'è sempre la versione italiana o solo quella italiana se è una comunicazione o quella italiana e quella tedesca questo invece è un articolo solo in tedesco e questo articolo non è mai stato tradotto l'ho tradotto io l'anno scorso per curiosità ma è un articolo in cui Fermi fa la cosa seguente vi leggo il commento di Sommerfeld uno dei grandi fisici della prima metà del novecento che dice ve lo leggo ma lo avete sotto gli occhi la particolare eleganza di questo esempio di Fermi sta nel fatto che come nella teoria del reticolo di diffrazione non è necessaria alcuna assunzione speciale sulla natura del reticolo voi avete forse sentito parlare del reticolo di diffrazione c'è quel fenomeno per cui se mandate la luce su un reticolo ad esempio un reticolo di atomi la luce viene diffratta cioè ci sono dei picchi di luminosità e dei picchi di oscurità e la luce non prosegue tutta dritta non passa attraverso ma ascia delle zone di luce di ombra governate da una legge che è determinata dalla natura ondulatoria della luce vedete natura ondulatoria della luce cioè la luce si comporta come un'onda è un'interferenza si vede anche nelle onde del mare se voi andate in spiaggia potete vedere la diffrazione tra quando vedete una barriera di scogli e l'acqua che passa attraverso le onde che passano attraverso i buchi io ci passo il giornato a guardare la spiaggia in cui si vedono i fenomeni di diffrazione e dice non è necessaria alcuna assunzione speciale sulla natura del reticolo ad eccezione del coefficiente di restituzione di diversi urti elastici e inelastici cioè e qui salto la bellezza di cinque slide perché sono tutte fisica matematica e a voi magari non solo non interessa ma fareste fatica a seguirvi e forse non ne traereste particolare beneficio e rivolgo alle conclusioni cosa fa Fermi considera delle particelle che si muovono su un piano e che vanno a sbattere contro una trottola ma una trottola rigida un rotore unidimensionale cioè un oggetto che può solo girare su se stesso ma non oscillare come le trottole vere diciamo gira intorno a un singolo asse e dice che cosa succede classicamente lo sappiamo un processo d'urto ma quantisticamente cosa succede a queste particelle che arrivano contro la trottola avranno un fenomeno quantistico perché la trottola ha dei livelli energetici quantizzati perché è un oggetto quantistico un rotore quantistico quindi i suoi livelli energetici obbediscono a una certa legge quantistica parametrizzata da un numero intero n e allora dice come facciamo a sapere dove vanno a finire questi oggetti e qui fa una cosa straordinaria si inventa che al posto di questo rotore ci mette un oggetto che è un reticolo un reticolo di diffrazione che però ha le stesse proprietà matematiche del rotore cioè è una sostituzione puramente mentale del formalismo quantistico in cui c'è un fascio di particelle che va a sbattere su una trottola in un processo puramente classico in cui un'onda un'onda nemmeno elettromagnetica un'onda qualunque va a sbattere contro un reticolo di diffrazione e riesce a dimostrare che la matematica è rigorosamente la stessa e giocando sulle formule classiche della diffrazione quelle che dicono in quali direzioni trovate la luce e in quali direzioni trovate l'ombra dimostra che queste formule classiche trasferite nel linguaggio della trottola fanno cambiare i livelli energetici della trottola esattamente di quei quanti di energia che la teoria quantistica prevedeva pur essendo una matematica puramente classica non solo ma reinterpretando questi numeri questi n il numero che parametrizza l'angolo verso il quale vengono diretti i raggi dopo la diffrazione trova che per un certo valore di n n uguale a 0 è come un urto elastico nel linguaggio della trottola per n maggiore di 0 è come un urto in cui la trottola assorbe energia e i raggi vengono mandati in altre direzioni le direzioni legate a questi angoli ttn e per n maggiore di 0 si ha addirittura un fenomeno che si chiamano urti di secondo tipo in cui il rotore addirittura emette energie è la cede a queste particelle che incidono e l'intensità dei raggi diffusi misura la probabilità dei differenti urti secondo quella formula di Born in cui avevo parlato sarebbe bello in una lezione di meccanica quantistica vera e propria dare i dettagli di tutto questo formalismo ma vi posso assicurare che è una cosa di tre paginette di un'eleganza sopraffina in cui veramente c'è pochissima matematica stravagante c'è moltissima fisica e soprattutto tante genialità ripeto in un ragazzo di 25 anni che ha imparato la meccanica quantistica il mese precedente si può dire o tre mesi prima vado rapidamente a concludere voglio solo sottolineare due cose uno l'importanza della formazione pisana di Fermi che penso viene sottovalutata perché la teoria di reticolo di frazione mentre la meccanica mentre l'attività generale e la meccanica quantistica se l'era studiata da solo la teoria di reticolo di frazione gli aveva insegnato il professor Puccianti quel signore con la barba che vedete nella figura e che era il suo professore di fisica a Pisa e che viene spesso trattato male dalla storiografia ma che è un personaggio molto molto interessante perché è anche quello che ha suggerito non solo ha suggerito a Carrara come misurare la lunghezza di onde era GX ma ha anche suggerito la Bernardini attraverso lui a Bruno Rossi non è mio parente come misurare la carica dei mesoni mu che scendevano dal cielo e poi con le cosiddette lenti magnetiche queste lenti magnetiche inventate da Puccianti sono state la base degli esperimenti di conversi Pacini e Piccioni fatti sempre qui a Roma nel 45 durante la guerra che sono stati i primi veri esperimenti di fisica delle particelle che sono stati fatti nel mondo si può dire non solo in Italia e quindi c'è una catena culturale che viene da questo professore uno sfaticato in via di conto che non ha dal giorno in cui è andato in catena non ha più scritto un singolo articolo ma riusciva comunque a studiare conoscere e trasmettere fisica ai suoi allievi in maniera veramente straordinaria ce ne fossero anche se non scrivono articoli di questo vi ho già parlato cioè di quando ha lavorato con Persico per cercare di adattare la nuova meccanica quantistica ai vecchi risultati sulle adiabatiche l'ultima cosa che ci porta esattamente dove siamo è l'ultimo articolo di Fermi nel 26 ma la data l'unica cosa che volevo sottolineare è la data perché la data di questo articolo è Roma 14 novembre 1926 il primo novembre Enrico Fermi aveva cominciato i corsi come professore di fisica teorica in questo istituto di via Pallinsperna dove poi ha maturato anche la sua gloria scientifica grazie per l'attenzione grazie grazie a tutti